Musica Femminicidio a Madatoricio, uccisa una 73enne, il marito confessa, la vittima è Mimma Caligiuri, insegnante in pensione. L'uomo spesso si era rivelato violento nei confronti della consorte e i maltrattamenti erano noti nel comune del Cosentino, ad allertare le forze dell'ordine e la figlia che non riusciva a contattare la madre. Anche i vicini da tempo non vedevano la donna, molto rispettata nella comunità. Sul caso, coordinato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari, indagano i carabinieri del reparto territoriale di Coligliano Rossano. Occhiudo a Celeri Liter, passi alla storia, come il governatore che ha realizzato il nuovo ospedale. Conferenza stampa stamane del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha rilanciato l'idea della realizzazione del nosocomio a Bagliolise, che per il primo cittadino è baricentrica e collegata con Ferrovie dello Stato, stazione dei bus e strada statale. Sopra luogo di Fiorita al depuratore di Lido a Catanzaro, il neoproclamato sindaco Nicola Fiorita in visita all'impianto di depurazione, per verificare se i lavori di miglioramento sono partiti. Lettera al governatore Occhiudo per chiedere attenzione in termini di risorse tecniche ed economiche. Scoperta centrale della droga a San Giovanni in Fiore, in Manette, una coppia di 42 e 22 anni. I carabinieri hanno rinvenuto a casa dei due quantitativi di eroina e metanfetamina, trovata anche una cospicua somma di denaro. Liceo Valentini Maiorana torna alla dirigente, a Castro Libero rientra in servizio Iolanda Maletta, responsabile della scuola, quando a febbraio l'Istituto finì al centro dell'attenzione nazionale per presunti abusi su due studentesse. A stigmatizzare rientro della dirigente Pino Assalone, coordinatore di Democrazia e Lavoro, sinistra CGL. Vacanze degli italiani Calabria al quinto posto, previsioni positive per la stagione estiva, si conferma l'attrattività della regione, numeri in forte crescita per l'aeroporto internazionale di La Mezzia Terme. A maggio arrivati quasi 240 mila passeggeri, 50 mila i passeggeri internazionali, con un incremento del 1240,7%. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione dell'altro Corriere Tg, l'appuntamento con l'informazione. Un saluto come sempre dalla nostra redazione. L'avete sentito dai titoli del sommario Apertura, che questa sera dedichiamo a quello che è il grave fatto di cronaca avvenuto. Quest'oggi a mandato Riccio il femminicidio vittima un'insegnante in pensione, domenica a Caligiuri, ritrovata senza vita questa mattina. Il marito, una volta rintracciato dai carabinieri, ha subito confessato l'omicidio. Ma ora è già giallo perché la donna, infatti, potrebbe essere stata uccisa già nei giorni scorsi. Si pensa, ad esempio, allo scorso giovedì ad allertare i carabinieri, infatti, è stata la figlia della donna che, appunto, proprio da giovedì non riusciva a rintracciare la madre. Ma sentiamo tutti i dettagli nel primo servizio di questa sera. Ha confessato Luigi Carlino, 73 anni, marito di Domenica Caligiuri, uccisa a coltellate a mandato Riccio Marina, in provincia di Cosenza. Sul posto i carabinieri del reparto scientifico per effettuare i primi rilievi ed il magistrato di turno. Secondo quanto finora ricostruito, la donna sarebbe stata uccisa a coltellate giovedì scorso e il marito, reo confesso, avrebbe trascorso le ultime 48 ore, come se nulla fosse accaduto. A segnalare che qualcosa non andava sarebbe stata invece la figlia della donna che negli ultimi due giorni non ha avuto contatti con la madre. La vittima, sul cui corpo sarà eseguita l'autopsia, era un insegnante in pensione. Sul caso coordinato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovilla, rindagano i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, alla base dell'omicidio, ci sarebbero dissidi familiari. Già in passato la donna, infatti, avrebbe subito maltrattamenti da parte del marito. E di una relazione complicata parlano le testimonianze raccolte. Come ci racconta una cugina di Domenica Caligiuri, la vittima avrebbe coperto più volte il comportamento violento dell'omicida. Mimma era una persona bravissima, troppo brava per questa morte, perché era più cattiva. Non era così, le aveva fatta arrestare il marito, invece lei era troppo brava. Lei l'ha sempre coperta, l'ha sempre coperta, l'ha sempre coperta, pure che aveva, però l'ha sempre coperta. Era brava, pure in chiesa, io so che più della chiesa, siccome io non sto tanto bene, mio marito non sta bene, non sono una persona che esce tantissimo. Quindi so che lei andava sempre in chiesa, ultimamente ha fatto la tarina al cuore di Gesù. Non posso dire solo questo. Bene, questi sono i fatti gravi, fatti di cronaca che ci arrivano direttamente da Mandatoriccio. Noi proseguiamo invece con altre notizie di ben altro tenore, ma comunque cronaca. Detenevano in casa metanfetamina ed eroina. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 42enne e la sua convivente di 22 a San Giovanni in Fiore. I militari si sono introdotti all'interno dell'abitazione e hanno ritrovato piccoli quantitativi di sostanza stupefacente misti tra metanfetamina ed eroina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. All'interno dell'auto, inoltre, i militari hanno rinvenuto anche un involucro con all'interno 450 grammi circa di eroina. I carabinieri invece della liquida radiomobile della compagnia di San Marco Argentano a Roggiano Gravina hanno tratto in arresto un ragazzo classe 98 per detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana. E' denunciato il padre, anche lui trovato in possesso di marijuana, sottoponendo complessivamente il sequestro penale 110 grammi di marijuana e 15 di ascici. I controlli sono poi proseguiti. Nel corso della serata dei militari hanno portato, in particolare i militari, a segnalare alla prefettura di Cosenza una terza persona che in seguito alla perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina. Dunque, questi fatti di cronaca, noi adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di fatti amministrativi che riguardano diverse città calabrese ma che hanno nei contenuti un forte rilievo regionale. Partiamo da Cosenza, dove questa mattina in conferenza stampa il primo cittadino, Franz Caruso, ha rilanciato per la realizzazione del nuovo ospedale il sito di Vagliolise e ha anche poi rivolto un invito al presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, passi alla storia per essere il presidente che ha realizzato l'ospedale. Roberto Occhiuto può passare alla storia come il presidente che ha realizzato il nuovo ospedale di Cosenza a parlare il sindaco della città dei Bruzzi, Franz Caruso, a margine della conferenza stampa ha convocato a Palazzo dei Bruzzi per annunciare le novità riguardanti lo studio di fattibilità sulla realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. Il presidente, pur avendo espresso pubblicamente e in privato anche a me direttamente la sua idea di sfruttare l'esistente per realizzare la nuova opera ha rispettato come giusto che sia, come costume anche del presidente Occhiuto rispettare le scelte delle altre istituzioni territoriali collocarlo lì dove il Consiglio Comunale ha individuato l'area migliore. Sui tempi il sindaco ha pochi dubbi. Io credo che Occhiuto possa ripassare alla storia per il presidente della regione che ha realizzato il nuovo ospedale dell'annunziata di Cosenza. La mia richiesta è stata quella di accelerare più che possibile i tempi dare vita subito all'accordo di programma regione, comune e ministero per passare poi immediatamente allo studio di fattibilità. Io credo che se c'è la volontà politica di realizzarlo entro il nostro primo mandato avremo l'ospedale dell'annunziata a Cosenza. E sulla carenza di personale Caruso si dice convinto della necessità di invertire la tendenza. Perché c'è carenza di personale, è un problema che investe tutte le istituzioni. C'è bisogno che lo Stato investa e ci sono le possibilità perché nella sanità tra il PNRR e i fondi nazionali ci sono le risorse economiche per avviare i concorsi per attirare nella nostra regione anche giovani energie e giovani professionalità. Per questo dico, se gli diamo le strutture adeguate noi invogliamo anche chi non è di Cosenza, chi sta fuori a venire qui a svolgere una funzione fondamentale, importantissima, qual è quella medica o sanitaria. Da Cosenza a Catanzaro dove il neoproclamato sindaco Nicola Fiorita ha aperto il primo dossier, ovvero ha fatto un sopralluogo questa mattina al depuratore di Catanzaro Lido e anche in questo caso c'è l'appello rivolto al Presidente Occhiuto, dice il primo cittadino ci dia le risposte e le risorse tecniche ed economiche di cui abbiamo bisogno. E' il primo dossier che il neoproclamato sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita sceglie di aprire. Stamane il primo cittadino si è infatti recato per un sopralluogo tecnico al depuratore di Catanzaro Lido, autentica croce del capoluogo per i pesanti disservizi che registra da decenni e che hanno provocato anche proteste eclatanti. Insieme al dirigente del comune di Catanzaro Giovanni Laganà, Fiorita ha voluto verificare direttamente i lavori effettuati e rendersi conto degli eventuali nuovi interventi necessari. Il sindaco ha anche scritto una lettera al Presidente Occhiuto per chiedere attenzione in termini di risorse tecniche ed economiche e procedere ad un monitoraggio utile a verificare se i lavori sono in grado di produrre i risultati attesi. L'1 luglio c'è una determina che dispone un servizio straordinario di smaltimenti oli e grassi presso il depuratore. Questa determina ci consente di aggiungere un ulteriore tassello. Quindi verifichiamo se i lavori progettati sono stati ultimati, abbiamo subito disposto un ulteriore intervento che dovrebbe migliorare la situazione, dopodiché noi dobbiamo subito capire se questi lavori produrranno effettivamente i risultati preventivati. Perché non sono state fatte le cose a me non mi interessa. Non parlerò mai di quello che non è stato fatto, del perché non è stato fatto. A me interessa, partiamo da qua e mi interessa fare le cose. Da oggi proviamo a dare risposte ai cittadini, tutto il resto non ci interessa. Non parlerò mai più dell'amministrazione precedente, se non per dire come e perché ci stiamo muovendo. Ne parlo nei termini in cui c'erano dei lavori predisposti, vengo a vedere se sono stati ultimati, faccio quello che si può fare in più rispetto a quello che è stato fatto. A Corigliano Rossano invece è il piano strutturale associato al centro delle attenzioni, in particolare le previsioni che riguardano la strada statale 106. Stamattina in conferenza stampa ne hanno discusso i rappresentanti del territorio di Fratelli d'Italia. Un piano strutturale associato che a molti appare quantomeno anacronistico. L'amministrazione comunale di Corigliano Rossano si accinge ad adottare il PSA della discordia, un piano licenziato nella conferenza programmatica del 2017, prima che le due realtà di Corigliano e Rossano si fondessero in un unico comune. Dopo la sollecitazione del Ministero dell'Interno e quello della stessa regione, l'amministrazione comunale sembra pronta al grande passo, che prevede importanti investimenti anche per quanto riguarda la strada statale 106. Secondo i rappresentanti di Fratelli d'Italia e del territorio, però, il piano fa acqua da tutte le parti. Il bello che dicono è che l'amministrazione sta accelerando dopo tre anni. Tre anni non è accelerazione ed è inutile che ci nascondiamo dietro la pandemia, perché così come hanno fatto le varianti illegittime, perché la legge regionale dice in assenza di un piano regolatore non si possono fare varianti, ma loro hanno fatto varianti lo stesso, hanno fatto la variante al piano spiaggia, hanno fatto un'altra variante in un'area urbana. Non so se è vero, pare che stanno modificando il RET, quindi anche quella è una variante, tutte varianti che la legge regionale non consente, però loro lo stanno facendo. Allora, questi tre anni, invece di impiegarle a fare le varianti, le avrebbero potute impiegare ad affrontare il tema del PSA. Il problema è di natura diversa, che purtroppo non sanno di cosa stiamo parlando e oggi invece, con l'arroganza che li contraddistingue, dicono stiamo accelerando. Ma cosa state accelerando? State andando ad adottare un piano vecchio, stravecchio, per il quale è necessario rimettersi a tavolino e modificarlo immediatamente. Ed è invece nuovamente polemica al liceo Majorana di Castro Libero per il ritorno in servizio di Yolanda Maletta, alla guida dell'istituto. Finito nella bufera, ricorderete, nei mesi scorsi, quando due studentesse denunciarono le molestie subite da un loro insegnante, la scuola venne occupata per protesta. Da dieci giorni è incredibilmente ritornata al suo posto come se nulla fosse successo in un silenzio assordante. A sbottare così è il coordinatore di Democrazia e Lavoro, sinistra CGL, Pino Assalone, che ha commentato il reintegro della dirigente scolastica dell'istituto Valentini Majorana di Castro Libero, Yolanda Maletta, tornata ad occupare la sua poltrona dopo i fatti dello scorso febbraio. L'istituto Cosentino finì nell'occhio del ciclone quando due studentesse denunciarono le molestie subite da un loro insegnante e la scuola venne occupata per protesta. Il caso assunse da subito una rilevanza mediatica tale da portare Castro Libero al centro delle cronache nazionali, cortei di studenti indignati, manifestazioni di protesta, sitina i quali hanno partecipato anche altri insegnanti dello stesso istituto. Alla Corriere della Calabria una delle ragazze aveva dichiarato i compagni, i miei genitori e alcuni docenti sanno tutto e sono pronti a testimoniare. A subire le conseguenze anche la stessa dirigente accusata di non aver adottato adeguati provvedimenti disciplinari a carico del professore e di averlo in un certo senso coperto cercando di insabbiare la cosa. La maletta da metà febbraio a metà giugno ha sottolineato a Salone pare per malattia e stata sostituita da un collega reggente. Ora torna a dirigere tranquillamente l'istituzione scolastica oggetto di attenzione da parte di tutto il paese per fatti da accertare e sempre a Salone a parlare che sarebbero avvenuti durante la sua dirigenza e di cui si è detto che lei fosse bene a conoscenza. Una riforma epocale è anche rivoluzionaria è quella del processo di famiglia e che riguarda anche i minori. Tante novità già introdotte a partire dalla 22 giugno e molte altre saranno introdotte già a partire dalla fine di quest'anno. I dettagli ai nostri microfoni li ha forniti il professore ordinario di diritto processuale civile all'Università di Pisa Claudio Cecchella che ieri è stato alla Mezzia Terme nel Tribunale. Una grande riforma che sarà introdotta attraverso tre distinti step. Un cambiamento epocale per la legge legata ai procedimenti che riguardano le famiglie e i minori. Una sorta di rivoluzione con alcune norme già entrate in vigore dallo scorso 22 giugno e che sostituiscono regole processuali risalenti addirittura al ventennio fascista. Ad illustrare il nuovo quadro normativo della legge 206 del 2021 è stato alla Mezzia Terme il professore ordinario di diritto processuale civile all'Università di Pisa, Claudio Cecchella. Di fronte invece alle regole dei rapporti tra le persone che sono cambiate tantissimo dagli anni 30, dagli anni 20 e sino agli anni 2000, insomma la caratteristica della famiglia attuale, il processo doveva necessariamente essere cambiato, modificato. Ad esempio oggi si parla di diritti del minore, si parla di diritti del coniuge debole, a quell'epoca si parlava del pater familias. Un adattamento necessario ai nuovi diritti acquisiti nel corso degli ultimi decenni, mentre tra le norme entrate in vigore alcune sono già di fondamentale importanza in attesa delle grandi novità che arriveranno già a fine anno. Il minore sarà all'interno del processo difeso da un avvocato perché qualche volta i genitori non fanno gli interessi del minore e quindi il giudice potrà nominare un curatore, si chiamerà del minore, che sarà il difensore all'interno del processo del minore. Quando i servizi sociali, la pubblica amministrazione allontana il minore dalla famiglia per problematiche di pericolo alla libertà, anche alla salute del minore, dovranno essere sottoposti a questi provvedimenti che prima non erano sottoposti a nessun controllo, ad un controllo da parte del giudice. C'è un iter procedimentale molto stretto, molto importante, che consentirà che questi provvedimenti, molto gravosi perché allontanano il minore dalla sua famiglia, siano sottoposti subito al controllo di un giudice. Quando il giudice stabilisce delle regole nel comportamento dei genitori con i figli, quando uno dei genitori viola queste regole, viene sottoposto a delle sanzioni. Voltiamo pagina. Quelli in corso sono giorni particolarmente caldi e le previsioni indicano che la situazione resterà almeno nelle temperature così, se non saranno anche più alte, con un caldo ancora più forte. Intanto sarebbero 28 milioni di italiani pronti a partire per le vacanze estive, secondo gli ultimi report. E come è avvenuto lo scorso anno, la stragrande maggioranza di questi 28 milioni di italiani resteranno tra i confini nazionali. In cima alla classifica dei luoghi preferiti di vacanza da parte degli italiani, c'è la Puglia, mentre la Calabria occupa il quinto posto. Sono 28 milioni gli italiani pronti a partire per le vacanze estive. Come destinazione si resta a casa, vince l'Italia. Questa è l'analisi dell'osservatorio Conf Turismo-Conf Commercio che misura l'indice della propensione al viaggio degli italiani e che raggiunge a giugno quota 72 su una scala da 0 a 100. Il mix delle destinazioni torna ad essere quello classico, 80% in Italia, 20% all'estero. Nel nostro paese in cima alla classifica c'è la Puglia, seguita da Sicilia e Toscana, Sardegna e Calabria. All'estero vince la Grecia, seguono Spagna e Francia. Il mare è la meta preferita da ben il 57%, seguono a distanza la montagna e le città d'arte tra il 13% e l'11% delle preferenze. In totale le partenze saranno 62,8 milioni, incluso chi andrà all'estero e chi, per diversi motivi, non soggiornerà in strutture turistiche. Chi andrà in vacanza spenderà quasi 300 euro per un weekend, 540 per una vacanza tra 3 e 6 giorni e 1.250 per la vacanza principale, quella di 7 giorni o più. L'economia nazionale beneficerà, grazie ai loro acquisti, di circa 47 miliardi di euro, tutto compreso dal trasporto al soggiorno, dal ristorante allo shopping. Un italiano su due ha già deciso e fissato tutto. Il 16% non ha bisogno di prenotare perché sceglierà una soluzione propria o andrà da amici o parenti, mentre il 31% ha già prenotato. Notizie positive dunque che fanno il paio con quelle diffuse da aeroporti Calabria. In particolare sono davvero confortanti e in forte crescita i numeri che riguardano l'aeroporto internazionale di La Mezzia Terna. Come evidenziato dai dati sulle tendenze per le vacanze estive, la Calabria si situa in un'ottima posizione per quanto riguarda le preferenze e le scelte degli italiani. Siamo quinti a livello nazionale e sembrano andare proprio in questa direzione, cioè quella di una sensibile crescita, i numeri che riguardano gli aeroporti calabresi con quello internazionale di La Mezzia Terme a guidare per passeggeri e movimenti il traffico in Calabria davanti ovviamente agli scali di Crotone e Reggio Calabria. Lo scalo lamettino secondo i dati diffusi da Aeroporti Calabria nel mese di maggio 2022 ha registrato quasi 240.000 passeggeri. La media di passeggeri a volo è stata di 129 su una capacità di circa 180 posti per dirla tecnicamente dato che interessa e non poco alle compagnie aeree il coefficiente di riempimento è del 72%. quasi 50.000 i passeggeri internazionali per una crescita del 1240,7%. I numeri dunque sono in netta crescita con percentuali altissime in attesa di capire cosa accadrà nei mesi di luglio ed agosto e in ogni caso trova conferma l'attrattività della regione che magari al di là degli aeroporti dovrebbe essere anche sostenuta attraverso le altre vie di collegamento che purtroppo continuano ad essere e il caso dell'A2 un vero e proprio freno a mano tirato. Bene, con le buone notizie si conclude l'edizione di questa sera del nostro OTG vi ricordo i prossimi appuntamenti nel corso della serata ma vi invito come sempre a restare sintonizzati sull'altro Corriere TV una buona serata. a restare sintonizzati